Manca un mese e mezzo alle elezioni ma Guglioni si è già in fermento per l'appuntamento elettorale previsto per il 26 e 27 maggio. Il comune del Basso Molise esce da cinque anni di amministrazione targata a Leon Tonacci, arrivata la sua scadenza naturale ma terminata con due mesi di anticipo a causa delle dimissioni di nove consiglieri comunali, di cui quattro della maggioranza, che hanno decretato l'arrivo del commissario prefettizio. Nessuna sorpresa per l'ex sindaco alle prese negli ultimi tempi con malumori all'interno della coalizione e che, determinato a portare avanti il suo progetto per la città, ha deciso di fare il bis e candidarsi ancora. La lista ispirata al centrodestra è la stessa che lo ha portato alla vittoria nel 2008, Guglionesi nel cuore, dove ci saranno sei candidati uscenti, tra cui il vice sindaco Lucarelli e quattro new entry. Non ha ancora scelto il suo capolista invece il centrosinistra, dove a contendersi il posto ci sarebbe sia il segretario cittadino del PD Mario Bellotti, che Cloridano Bellocchio, già sindaco di Guglionesi per due volte. Ma mentre il PD fa i conti con la coalizione, in paese si sta lavorando ad almeno altre due liste. Una è quella formata dall'ex minoranza e tra i nomi per il possibile candidato sindaco ci sarebbero quelli di Antonio Tomei e Antonio Donofrio. L'altra è quella che raggruppa esponenti della cosiddetta società civile. Il dottor Antonio Gizzi e il professor Arcangelo Pretore sono ipapabili alla carica di sindaco. Dunque quella che si delinea è una corsa a quattro, un terno all'otto per tutti con un'eccessiva dispersione di voti. È per questo che qualcuno starebbe già cercando accordi e larghe intese. Ma fino al 27 aprile, giorno della presentazione delle liste, tutto può ancora cambiare.